Alimenti scaduti e cucine sporche, sequesti del nastro da Battipaglia al Cilento. Il nucleo antisofisticazione e sanità di Salerno con l'ausilio di personale dell'ASL, dopo aver controllato una rivendita dei prodotti alimentari ubicati in Battipaglia a un supermercato nel centro di Salerno ed una farmacia ubicata a Sapri, hanno proceduto al sequestro di circa 150 kg di prodotti alimentari, in quanto non tracciate e dalla chiusura di un deposito di alimenti in pessime condizioni igienico-sanitarie e strutturali. I controlli hanno interessato anche uno studio odontoiatrico ubicato in Ponte Cagnano, una residenza sanitaria assistita nel Cilento e due ristoranti della costiera amalfitana, contestate sanzioni amministrative per un totale di circa 15.000 euro. Il valore dei provvedimenti adottati ammonta ad oltre un milione di euro.